La professoressa Piera Campanella, che è ordinaria di diritto del lavoro nell'Università di Urbino Carlo Bo e che ci parlerà della responsabilità degli enti e caporalato in una prospettiva giuslavoristica. Le cedo volentieri la parola. Sì, ecco, grazie per l'invito a partecipare a questo interessante incontro formativo. Io avevo delle slide che attendo, eccole, bene. Ecco, io ho provato a riflettere nel mio intervento a partire dal titolo che mi è stato affidato, quindi responsabilità degli enti, caporalato e prospettiva giuslavoristica. Intanto la fattispecie di riferimento e appunto questa fattispecie penalistica è quella del caporalato e poi in seconda battuta andremo a guardare, andremo a riflettere, a ragionare sulla responsabilità dell'ente datore di lavoro. Questi due primi riferimenti mi impongono di partire di necessità dalla legge 199 del 2016. Ecco, ecco, la legge 199 del 2016, interessante per quel che ci riguarda, con riferimento agli articoli 1 e all'articolo 6. All'articolo 1 la legge novella e quindi rivisita l'articolo 603 bis del codice penale dopo il suo debutto dedudente e molto criticato avvenuto con il DL 138 del 2016. L'articolo 6, che dopo aver rivisitato questo articolo 603 bis, ne fa reato presupposto ai fini della responsabilità delle persone giuridiche ex decreto legislativo 231 del 2001. Vengo alla terza parte del mio intervento e cioè lì dove mi si sollecita di guardare al fenomeno e alle due fattispecie da una prospettiva giuslavoristica. Ecco, quindi a me la mente è andata immediatamente diciamo alla storia di questo fenomeno e a quel che ha significato per i giuslavoristi il caporalato. Noi storicamente abbiamo sempre inteso il caporalato come quel fenomeno di triangolazione vietata e quindi di intermediazione illecita appunto tenuto in considerazione proprio a fini di divieto dalla legge 1369 e le 60. Ecco, quindi mi sembra che il principale contesto, l'ambito ecco entro cui il caporalato si inserisce è quello del lavoro indiretto. Sicché io ravviso una stretta correlazione tra il caporalato e i fenomeni di esternalizzazione. Uno perché appunto il caporalato si innesta su forme di intermediazione illecita, per storia e tradizione intanto. Due perché procura un particolare allarme quando si infiltra all'interno di filiere produttive lunghe e complesse caratterizzate da una giungla di relazioni contrattuali, spesso filiere anche sappiamo purtroppo infiltrate dalla criminalità organizzata e questo è il motivo per cui tra l'altro il codice antimafia richiama espressamente l'articolo 603 bis con riferimento sia all'amministrazione giudiziaria dei beni e non solo, sia all'informazione antimafia. I numeri di questo fenomeno, il fenomeno così come sono esplose le esternalizzazioni che determinano una segmentazione dell'impresa e quindi una diciamo una grande complessità dei modi di fare impresa, così altrettanto è esploso il caporalato. come appunto l'indagine parlamentare chiusasi nel maggio del 2021 dimostra e come dimostrano altresì le evidenze riportate nella relazione annuale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con riferimento ai dati del 2020. Ma veniamo subito e ritorniamo anzi a bomba sul profilo giuridico del fenomeno, per appunto guardare proprio alla fattispecie del caporalato che è appunto premessa di ogni discorso in materia. L'articolo 1 nel riscrivere l'articolo 603 bis tenta di appunto rendere più severa la fattispecie. Ricordo infatti che la legge 199 del 2016 viene alla luce sull'onda di alcuni fatti di cronaca nera particolarmente gravi e dolorosi, in particolare appunto è stata la morte di Paola Clemente a far gridare a gran voce soprattutto da parte sindacale alla necessità di inasprire la fattispecie penale e renderla più rigida e più efficace e quindi la filosofia a cui si è ispirata questa riscrittura della fattispecie dello sfruttamento di lavoro è stata una filosofia di tolleranza zero nei confronti del fenomeno e quindi con l'idea che insomma questa legge potesse avere anzitutto un forte valore simbolico e poi anche un valore effettivo. Tra l'altro appunto la legge diciamo intercetta un fenomeno che evidentemente è quello dell'impresa illecita e si muove sul presupposto che si possa bonificare in qualche modo il mercato del lavoro, il mercato delle imprese, il tessuto economico mettendo da parte, perseguendo le imprese non etiche, non sostenibili o diciamo proprio non sane e cioè che ci possa essere un discrimen netto tra imprese che appunto operano nella legalità e imprese che operano nella completa illegalità e quindi le cosiddette imprese illecite cioè quelle imprese che sostanzialmente consapevolmente violano le leggi consapevolmente pongano in essere condotte di sfruttamento del lavoro stimolate diciamo dall'obiettivo di incrementare i margini attraverso il risparmio dei costi del lavoro. e in questa cornice l'articolo 603 bis nuovo delinea una fattispecie costituita da due elementi, l'elemento dello sfruttamento e l'elemento dello stato di bisogno. Per quanto riguarda il primo, eh lo sfruttamento eh si realizza eh quando appunto vi siano situazioni di estremo degrado lavorativo, situazioni cioè di eh diciamo soggezione disumana, di asservimento personale anche psicologico del del prestatore dovuta appunto a condizioni disumane lavorative e personali illesive della dignità umana. In altri termini eh siamo di fronte ad un delitto eh contro la personalità dell'individuo e quindi a tutela del bene della dignità umana. La eh dicevo la l'ipotesi dello sfruttamento va verificata e valutata caso per caso, va valutata caso per caso perché si tratta di eh situazioni molto gravi ma soprattutto complesse di degrado lavorativo. L'altro elemento, lo stato di bisogno eh viene evocato nel momento in cui appunto la norma afferma che vi deve essere un approfittamento dello stato di bisogno per realizzarsi caporalato. Ehm il eh l'approfittamento dello stato di bisogno è in qualche modo condizione implicita dello sfruttamento perché cos'altro è lo sfruttamento se non sfruttare la la ricattabilità di un soggetto per imporre a lui condizioni lavorative disumane degradanti. Quindi diciamo che proprio per il fatto che questa condizione eh che lo stato di bisogno è insomma condizione implicita dello sfruttamento tutto si riduce appunto eh alla alla individuazione del significato da attribuire allo sfruttamento tra l'altro considerate che che dopo la rivisitazione dell'articolo 603 bis i soggetti puniti non sono più solo eh non è più solo il caporale ma anche l'utilizzatore qualora si tratti di intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro e quindi approfittamento dello stato di bisogno della vittima ma soggetto punito può essere anche oltre che il caporale e novità l'utilizzatore anche lo sfruttatore più in generale per cui nella fattispecie rientrano tutti i casi di sfruttamento non solo realizzati attraverso la triangolazione ma anche realizzati attraverso lavoro diretto se sfruttato non solo anche qui lavoro nero ma anche lavoro regolarmente eh diciamo eh costituito eh ma appunto sfruttato e allora che cosa è questo sfruttamento in cosa consiste questo sfruttamento? La eh l'articolo 603 ci ehm ci dà ci offre degli indici di sfruttamento questi indici sostanzialmente sono quattro fanno riferimento alle retribuzioni non corrispondenti a quelle previste o eccessivamente sproporzionate rispetto a quelle previste dai contratti collettivi dei sindacati comparativamente più rappresentativi o comunque retribuzioni non conformi all'articolo 36 della Costituzione c'è il tema dei tempi di lavoro e quindi dei tempi e carichi di lavoro orari riposi pause c'è la questione dell'igiene e sicurezza del lavoro quindi una violazione della eh della normativa sulla sicurezza ehm e ehm infine e il degrado della delle condizioni alloggiative questi indici così come la fattispecie sono stati insomma alleggerite da una serie di altri elementi che facevano invece parte della vecchia eh del del vecchio articolo 603 bis che lo rendevano più eh difficilmente applicabile ehm che dire di questi indici eh possiamo dire che eh proprio alla luce del fatto che si tratta di indici depurati da una serie di elementi prima sussistenti una parte della dottrina ha gridato l'eccessiva indeterminatezza di questi indici cioè tali da non consentire una eh diciamo eh individuazione tassativa e determinata della fattispecie di reato al punto da appunto sollevare eh dubbi di costituzionalità dubbi di costituzionalità altra parte della dottrina ha invece ritenuto a contrario che questi indici rappresentino solo degli indici sintomatici cioè dei criteri di ehm orientamento probatorio e e quindi la loro diciamo genericità se vogliamo eh non infici la determinatezza della fattispecie ehm tra l'altro appunto ah e anzi diciamo secondo questa dottrina questi indici sarebbero molto utili nella individuazione di una fattispecie poi a propria volta preziosa perché sostanzialmente il caporalato il 603 bis rappresenterebbe una eh un o comunque ehm diciamo così avrebbe una funzione di ehm sopperire ad una lacuna prima esistente nel sistema penale andandosi ad inserire in una zona grigia tra quella che è la normale diciamo se vogliamo normale patologica comunque violazione delle leggi in materia di lavoro e la più eh forte riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 eh del codice penale quindi il caporalato con i suoi eh inteso come sfruttamento del lavoro eh diciamo eh individuato tramite indici sintomatici sarebbe una eh una fattispecie eh assolutamente preziosa proprio per la sua capacità di andarsi ad inserire in questa zona grigia e quindi a eh punire alcuni eh alcune condotte che altrimenti sfuggirebbero sia alla al primo eh eh diciamo alla alle norme non so per esempio sulla somministrazione fraudolenta che comunque eh vietano eh la somministrazione e quindi perseguono la somministrazione fraudolenta ma con sanzioni più lievi sia la riduzione in schiavitù che invece è una fattispecie di più di maggiore gravità. Eh coloro invece la dottrina che invece eh punta il dito contro questi indici eh ne evidenzia anche la loro sostanziale riconduzione alla stessa fattispecie della riduzione in schiavitù cioè si dice il legislatore niente avrebbe fatto se no null'altro avrebbe fatto se non sostanzialmente riprendere la giurisprudenza che era stata elaborata in tema di riduzione in schiavitù e eh porla al servizio di questa nuova fattispecie sicché eh tutto questo questi indici determinerebbero anche una situazione di confusione tra i due reati l'articolo 603 bis e eh l'articolo 600 con una sorta di sovrapposizione ma comunque si voglia quel che si a prescindere da quel che si vuol dire su questi indici forse ce n'è uno che particolarmente interessa i gius lavoristi eh per la sua problematicità ed è proprio quello relativo alla retribuzione che non deve essere eccessivamente sproporzionata rispetto a quella eh stabilita nelle eh nelle nei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi questo perché perché tutti i gius lavoristi sanno che la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo è una nozione molto molto scivolosa eh per non dire eh assolutamente eh diciamo in discussione no anche presso le aule giudiziarie e e tra l'altro eh si potrebbero porre problemi anche di violazione ipotetica della libertà sindacale perché cosa succede nel caso in cui un un sindacato diverso da quelli comparativamente più rappresentativi stipuli negozi un contratto collettivo eh con retribuzioni più basse di quella dei sindacati comparativamente più rappresentativi ed un'azienda voglia applicare quelli in quanto iscritta eh a mio avviso sono contratti che rispecchiano il principio di libertà sindacale che sono negoziati in nell'esercizio della libertà sindacale che per il principio della rappresentanza un'azienda deve poter essere iscritta a quel sindacato che l'ha negoziato deve poter applicare eh quindi eh direi una una nozione dentro cioè trasposta all'interno di una fattispecie penale una nozione da dei grossi da eh che comporta grossi problemi una nozione eccessivamente indeterminata forse per essere trasposta in una fattispecie penale al di là comunque di questo eh che siano indici più o meno generici certo è che noi dobbiamo farci conti e che forse guardando diciamo il bicchiere mezzo pieno possono servirci a che pro possono servirci come indici sentinella per chi deve predisporre quel famoso modello organizzativo e gestionale il cosiddetto modello di eh due tre uno eh capace appunto di fungere da esimente della responsabilità da reato e qui veniamo appunto al non so se ho premuto bene ecco questa era scusate la slide relativa agli indici di sfruttamento e la questione relativa alla loro indeterminatezza ma appunto indeterminati che siano ci fungono da spia per chi deve appunto mettere in opera confezionare il modello eh due tre uno eh modello che appunto come dicevo funziona da esimente della responsabilità penale dell'ente e responsabilità penale che appunto dopo la legge cento novantanove 2016 coinvolge l'ente datore di lavoro anche per il reato di caporalato con previsioni di sanzioni pecuniari e scusate calibrate sul modello delle quote e sanzioni interdittive le caratteristiche della responsabilità penale dell'ente datore di lavoro anche in questo caso vado velocemente su questo aspetto perché si tratta del terzo ciclo di incontri e quindi ne avrete ampiamente parlato ma come sarà stato ampiamente appunto sottolineato la responsabilità penale dell'ente è una responsabilità che si affianca a quella della persona fisica autrice del reato persona fisica in eh posizione apicale o comunque eh si affianca la responsabilità di una persona fisica che pur non essendo in condizione in posizione apicale sia stata sottoposta al controllo appunto di del della prima eh si ha una responsabilità che si affianca a quella della persona fisica perché costruita sul modello della immedesimazione organica del soggetto autore del reato eh alla eh alla all'ente datore di lavoro altra caratteristica seconda caratteristica che funziona eh solo se la persona fisica abbia agito nell'interesse a vantaggio dell'ente e qui la cassazione penale è stata molto chiara non bisogna guardare all'evento che evidentemente non voluto ma la condotta dell'autore del reato che deve aver consentito o deve essere stata finalizzata a consentire eh all'ente di realizzare un suo vantaggio quale vantaggio un risparmio dei costi oppure un risparmio di tempo quindi sotto forma di aumento della produttività. Infine terzo aspetto rilevante che si tratta comunque non di una responsabilità oggettiva ma di una responsabilità per colpa e in particolare per colpa di organizzazione ed è qui che si inscrive e quindi si radica il modello 231 un modello che eh diciamo funziona resimente quando appunto ehm il si è approvato altresì che i soggetti fisici autori del reato abbiano fraudolentemente eh bypassato questo modello non solo esistente ma anche efficacemente attuato con naturalmente al centro l'organismo di vigilanza. La questione ci eh scusate vado un momento indietro la questione è venuta emergendo prepotentemente cioè quella della responsabilità societaria del modello 231 nel caso Uber che è appunto il professor Pinardi ricordava implicitamente quando evocava il tema del caporalato digitale ecco e qui appunto il caso è quello di dipendenti di Uber Italy che eh Uber Italy esercitante da statuto attività di marketing e di di consulenza nel settore del trasporto privato ecco i dipendenti di Uber Italy cosa avrebbero fatto? avrebbero dato vita ad un'operazione di grave sfruttamento della mano d'opera in particolare dei rider della flotta dei rider attraverso due società eh due società che reclutavano soggetti in stato di bisogno tramite contratti occasionali di lavoro autonomo direttamente dal CAS della provincia di Pavia. nella vicenda è stata implicata anche la eh olandese Uber Portier eh BV eh che eh appunto controllante di Uber Italy per quanto concerne il food delivery eh gestito da eh l'olandese o l'olandese Uber Portier tramite il ramo societario Uber Eats. Cosa verifica il tribunale di Milano dopo una inchiesta eh significativa eh enorme di grande impatto anche mediatico verifica un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano della tutela dei diritti minimi situazione aggravata dall'emergenza pandemica. Eh al di là delle diciamo della della vicenda eh individuale quindi delle condanne ai eh dipendenti o o comunque ai eh rappresentanti della delle società reclutanti per quanto riguarda la società la vicenda ha dato luogo all'amministrazione giudiziaria eh della società Uber Italy SRL per un anno questa è stata revocata solo quando il tribunale di Milano ha verificato che l'amministrazione l'amministratore giudiziario ha assolto a tutta una serie di compiti affidati tra cui eh naturalmente compiti finalizzati alla bonifica aziendale tra cui quello di effettuare un riesame particolare particolareggiato del riassetto della società Uber accertando quale fosse il modello organizzativo e gestionale redatto proprio ai sensi della 231 con particolare cura proprio nella valutazione della eh idoneità di tale modello a prevenire il reato del caporalato nello specifico settore del rapporto con i lavoratori autonomi cosiddetti rider. Da qui è uscito a fuori una la vicenda che si è appunto chiusa con la revoca e diciamo ha dato vita anche ad un protocollo stipulato da Uber Italy con appunto un protocollo stipulato con le organizzazioni sindacali e in cui appunto vengono diciamo piuttosto utile per comprendere quali possono essere gli elementi diciamo rilevanti gli essensi della costruzione di un modello 231 e qui appunto. Professoressa Campanella scusi sono già passati più di venti minuti se. Sì veniamo e concludo alle caratteristiche di questo modello non c'è in realtà la legge 199 non ci dice quali caratteristiche deve avere questo modello come invece fa per esempio il testo unico sulla sicurezza del lavoro all'articolo 30 a cui però il reato di caporalato la prevenzione di questo reato è direttamente connesso no perché appunto uno degli indici di riferimento dello sfruttamento è proprio la violazione della sicurezza sul lavoro quindi diciamo che le caratteristiche vedevano essere quelle dell'articolo 6 e allora vediamo innanzitutto come può essere costruito un modello gius lavoristico diciamo efficace secondo la nostra prospettiva innanzitutto bisogna prima ancora che pensare alla gestione del rischio e pensare a valutarlo e valutarlo secondo il principio della eliminazione del rischio e o è possibile la sua riduzione bisognerà individuare senz'altro le aree e le sotto aree sensibili al tema dello sfruttamento e in particolare qui siamo nel contesto della gestione dei rapporti di lavoro per cui va verificata l'organizzazione del lavoro va verificata la diciamo il rischio relativo allo sfruttamento del lavoro in tutte le fasi del rapporto di lavoro senza trascurare naturalmente la fase costitutiva specie quando l'azienda ha rapporti utilizza molto impiega molto lavoro indiretto e quindi contratti di appalto contratti di somministrazione e quant'altro ultimi ultime due battute permettetemi un altro elemento secondo me importante è che per noi gius lavoristi che è un modello organizzativo e gestionale 231 per essere efficace dalla nostra prospettiva non deve essere solo un modello che diciamo riarticola il processo aziendale al fine di prevenire questi reati deve essere anche un modello che coinvolga i lavoratori questo è molto importante anche per il rapporto con la sicurezza del lavoro e la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza infine infine noi puntiamo peraltro moltissimo come gius lavoristi sui modelli di organizzazione e gestione proprio nella misura in cui quantomeno nella sicurezza consentono una sorta di messa a terra del documento di valutazione del rischio al di là appunto delle debolezze a volte cioè diciamo delle debolezze legate agli strumenti di soft law protocolli linee guida e quant'altro ultimo punto è che a mio avviso scusate e a mio avviso bisogna tener conto di questo che finché un modello di organizzazione e gestione 231 non sia solamente appunto come dicevo uno strumento per ricostruire un processo organizzativo aziendale ma sia anche uno strumento efficace realmente efficace di trasformazione dell'organizzazione aziendale occorre che sia preso come un'occasione per ripensare nel profondo l'organizzazione del lavoro a partire dalla riduzione di un rischio che il rischio di fondo la ricattabilità dei lavoratori perché dietro del caporalato c'è lo stato di bisogno e l'approfittamento e questa ricattabilità dei lavoratori ha molto come contribuisce proprio la esplosione dell'outsourcing un buon moggius lavoristico non può non interrogarsi sul modello di impresa e che si vuole mettere realmente in campo e quindi su un controllo dello strumento dell'outsourcing vi ringrazio davvero questa volta molto per la vostra attenzione grazie molte grazie a lei professoressa campanella relazione molto densa e a largo spettro tra l'altro ha sollecitato una richiesta e una domanda la richiesta è quella di avere le slide che le giro perché ovviamente le slide sono sue dal nostro punto di vista e quindi se è possibile avere le slide perché come slide dei redattori penso che le presenti solo lei oggi come slide certo il dottor Zappalà dell'organizzazione ha le mie slide quindi è possibile dal permesso posso condividerle già in chat mi servono cinque minuti ma posso farlo grazie mille dottore grazie davvero e poi c'è una domanda di Donatella Dainese che chiede il caporalato si evidenzia principalmente nel subappalto d'opera agricoltura edilistra informatica il diritto civile punitivo che sta venendo avanti a livello normativo è davvero escludibile? dunque se ben se ben se ben intendo è una scusate ecco si tratta di una diciamo di uno spunto ed una di un intervento che mi stimola a riflettere appunto sulle tecniche di tutela sulle tecniche di tutela di fronte appunto ad un fenomeno antico diciamo ma sempre più attuale come quello del caporalato qui c'è stata evidentemente una transizione delle tecniche di tutela dal civile al penale io credo che comunque l'articolo 603 bis così come disegnato dalla legge 199 del 2016 abbia una sua utilità per quel che concerne devo dire la mia esperienza sul campo questo articolo 603 bis è servito per esempio cito proprio nell'agricoltura in Sicilia dove ho potuto seguire l'attività delle caritas e alcuni progetti delle caritas in maniera di in materia appunto di contrasto all'economia illegale ebbene eh il 603 bis ha consentito alle forze dell'ordine di sgominare eh filiere appunto contaminate e se non ci fosse stato questo non non sarebbe stato possibile però il fatto che questa ehm eh fatti specie sia transitata dal diritto del lavoro dal diritto civile del lavoro al diritto punitivo al diritto penale evidenzia che evidenzia diciamo una lacuna a monte e cioè l'aspetto preventivo in particolare in Sicilia chi è che combatte chi è che ho visto combattere il caporalato evidentemente potendo fare eh diciamo conto solo sull'articolo 603 bis e quindi su una norma penale le forze dell'ordine ma questo nasconde la incapacità eh di chi deve gestire il mercato del lavoro in maniera legale cioè purtroppo devo dire eh appunto eh troviamo una grande un grande protagonismo delle prefetture delle forze dell'ordine in quei territori ma non altrettanto un altrettanto protagonismo di altri soggetti chiamati ad operare nel mercato del lavoro ad esempio le regioni attraverso e e attraverso i loro centri per l'impiego ecco quindi a mio avviso questo transito questo transito della fattispecie dal civile civile del lavoro al penale non depone molto bene eh evidenzia a mio avviso una mancanza cioè un deficit proprio eh della delle politiche di prevenzione a monte e non vorrei che il mog che al mog fossero attribuite eh erroneamente virtute omaturgiche perché il il mog non può fare quello che appunto realmente è impossibile quello che dovrebbe invece essere devoluto alla politica e alle politiche del lavoro e alle politiche industriali ecco quindi eh io eh mi viene appunto di di rispondere in questi sensi bene sì l'articolo 603 del codice penale ma come estrema razio e non come strumento che copre diciamo la inesistenza di politiche del lavoro di politiche di intervento sul mercato del lavoro realmente e politiche economiche realmente efficaci molto bene direi che la domanda anche la risposta così articolata fanno da trade union perfetto per la relazione successiva grazie a tutti grazie a tutti